Breaking news di Wild Rift, finalmente abbiamo delle novità interessanti, infatti questa settimana sappiamo che sta arrivando la patch 4.4, arriverà il 24 sera, quindi nella notte tra il 24 e il 25 ottobre e tecnicamente avremo ancora un giorno di ranked durante la nuova patch, quindi chissà se arriva anche Fiddlestick confermato con quella patch, la situazione sarà un po' spinosa. Anche se effettivamente sarà più spinosa quando arriverà Zyra, ma ora cavolate a parte andiamo subito con la prima novità, infatti la skin di Beemo, si lo so che non tutti amano Teemo, ma arriverà gratis. Infatti sul profilo ufficiale di Wild Rift hanno finalmente dato qualche novità riguardo questa skin, al momento c'è scritto semplicemente che visto che abbiamo contribuito molto alla Power Spike Gallery della quale avevo parlato in uno di questi video di news, hanno detto avete sbloccato Beemo come speciale ricompensa di ringraziamento. Accedi 7 volte durante l'evento dell'anniversario per aggiungere questa app indaffarata alla tua collezione, saluti a 3 anni delle tue creazioni e molte a venire. Quindi semplicemente per festeggiare i 3 anni di Wild Rift del Power Spike 2023, questa skin sarà regalata semplicemente accedendo al gioco, ovviamente dopo la patch 4.4. E non c'è bisogno insomma di correre per cercarla in questo momento in game, perché quando arriverà ufficialmente sui nostri server ci basterà semplicemente logare. Ovviamente nel prossimo video news se ci saranno cose aggiunte o importanti riguardanti l'evento, come magari altri regali o cose interessanti, ve le farò sapere come faccio sempre appunto in questi video di aggiornamento. E per chi non lo sapesse sta arrivando una nuova skinline, in questo caso di una boyband, cioè gli Airsteel. C'è un piccolo trailer di solamente 17 secondi che adesso andiamo a vedere e diciamo che potrebbe essere il corrispettivo maschile delle KDA, ecco che è una skinline famosa che già conoscete sicuramente. Quindi vediamo il trailer. Coatti Airsteel Ed ecco qui i membri per chi non lo sapesse che dovrebbero essere appunto Kain, questo qui in alto, poi Aphilios che però noi ancora non abbiamo su Wild Rift, Xante che noi non abbiamo su Wild Rift, Ezreal, Ione e Seldra. Ancora mancano novità importanti riguardo a questa skinline, se quando arriverà e se eventualmente rilasceranno nel frattempo uno o due campioni, in questo caso Xante e Aphilios, però ecco teniamo l'occhietto aperto. Passiamo ora invece a una novità importantissima, ossia che le ranked stanno finendo, la ranked season sta finendo. Mancano infatti tre giorni alla fine della stagione, di solito la Riot ha i countdown dove tra tre giorni poi mancheranno un totale di ore. Quindi dovrebbe finire, cioè la nuova season dovrebbe iniziare il 26 ottobre, quindi questa probabilmente finisce il 25 sera o qualcosa del genere. Anche perché mancano tre giorni come vedete, quindi quando a un certo punto scatterà da tre giorni a due vorrà dire che veramente mancheranno tre giorni, se sapete insomma vedere il momento perfetto. E toccando qui in alto a sinistra ci rimanda anche verso le informazioni di fine season, quindi come funziona il reset, quanto scendiamo dall'azzeramento di livello e tutte queste cose qui. Un'altra cosa importante per qualcuno che potrebbe avere problemi con il wifi, con lo scaricare le cose per tempo, che comunque ha bisogno di tempo per scaricare le patch notes, ecco sappiate che finalmente si può scaricare in anticipo la patch notes, vedete, programma d'aggiornamento della nuova versione. Vi danno anche 100 monete poro tra l'altro, forse dovrei farlo effettivamente, perché di solito non ho questo problema avendo la velocità internet appunto molto alta. E quindi vado a cliccare su pianificazione download e mi dice vuoi pianificare? E gli ho detto sì pianificamelo e sta iniziando infatti a scaricarmi la patch notes come potete vedere qui. Per quanto riguarda il prossimo while pass in arrivo, infatti sappiamo che questo finisce tra tre giorni, il primo, insomma il primo pass con la nuova skin sarà quello di Echo, Psychic Detective Echo, che ne abbiamo già visto, già parlato in un video, novità precedente, e quello successivo sarà quello di Kyle, come anche hanno mostrato loro all'interno del video della patch preview. Sicuramente c'è qualche informazione importante che voglio farvi vedere. Comunque qui possiamo vedere Kyle, infatti vediamo com'è la skin, anche se forse faranno pure addirittura qualche altro miglioramento, ma sembra molto interessante. E poi qui vediamo su, questo è un Wiccano Arena, diciamo delle novità per il Brasile di Wild Rift, dove parlano di potenziali cambiamenti al pass, dove magari ci saranno solamente 30 livelli affinché tutto sia più facile da prendere, e dove bisogna sprecare meno tempo per riuscire a prendere quella skin, o come magari appunto il bordo o gli ornamenti vari. e vogliono però, cioè l'unico problema di questa cosa qui è che potrebbero cercare di avere quindi pass ancora più spesso per poterci far spendere di più, credo tecnicamente. Comunque ne avremo qualche informazione in più nel 5.0, quindi per ora godiamoci la 4.4 con calma. Per quanto riguarda Echo e la sua skin, vi farò arrivare semplicemente un video con la sua skin e Wild Pass, anche perché un abbonato di livello 3 ha richiesto il video su Echo, quindi prenderò due piccioni con una fava. Vi farò vedere la sua skin del Wild Pass dopo la patch, insomma, tempo che faccio le cose, anzi adesso vi do anche una bella pianificazione di un paio di video di cose in arrivo, quindi con la guida super dettagliata come ho fatto per Lucian, Draven, Ash e Mundo, e ringrazio molto le persone che mi stanno supportando in questo progetto. E se vi interessano i regali, le skin giveaway, lo dico 800 volte così se sei distratto o distratta, se voglio cosa giveaway? Skin gratis? Infatti sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre ci sarà la mia maratona, o meglio inizierà da 12 ore di sabato e poi accumuleremo delle ore con una maratona estendibile per giocare, insomma, e stare insieme anche domenica. Ci saranno un subday, ci saranno skin in regalo, ci saranno almeno 8 codici Riot, poi se si riesce a qualcosa di più, ma diciamo quello è lo standard, quindi con skin e cose in regalo, quindi vi invito a passare sulla piattaforma viola il 28 e il 29 ottobre. Poi se passate anche gli altri giorni, dai! E in quel caso vi ricordo che sono live tutti i giorni, tranne il venerdì dalle 16 alle 20. Per quanto riguarda l'ordine dei video in arrivo, avremo lunedì domani il video introduttivo di Fiddlestick, quindi la guida dove vi faccio vedere le abilità, come sono cambiate, darvi informazioni in più, qualche tips and tricks e una prima build, questo prima. Poi successivamente martedì sera arriveranno le patch notes, quindi con tutte le informazioni dove ci saranno varie cose spiegate, tra l'altro ci saranno anche nuovi oggetti. Detto questo, per i nuovi oggetti vi farò un video a parte, quindi non mi soffermerò in maniera pesantissima all'interno del video delle patch notes, perché tanto vi faccio poi il video a parte. E qui siamo a martedì sera. Mercoledì, se tutto va bene, ci sarà insomma un video che non posso dirvi in questo momento, ma ci sarà un video. Poi giovedì, sempre se questo non cambia niente in base a quello di mercoledì, arriverà invece il video sugli oggetti. O comunque se non arriva giovedì, è venerdì in base insomma al cambiamento menzionato poco fa. Quindi comunque vi farò il video su tutti i nuovi oggetti, sugli oggetti reworkati, quelli che sono stati cambiati. Per la season ranked questa sarà la skin di Ash che ovviamente avremo con la nuova stagione, quindi per chi voleva sapere qual è la skin della nuova stagione e delle classificate, sarà questa skin di Ash. Invece per quanto riguarda le skin Spirit Blossom, vi farò avere poi un video prima della loro uscita, dove le provo tutte quante, vi faccio vedere insomma le abilità all'interno di un singolo video, credo tranne la versione prestigio di Mastery, perché quella sul server PBE non sarò in grado di ottenerla in nessun modo. Però da quello che ho capito, semplicemente la versione prestigio come sempre sarà un potenziamento della skin non prestigio, e quindi intanto vi farò vedere quelle. E per il discorso le plays dalle quali io vado a fare la reaction o vedere, vi ricordo che c'è un link in tutti i video domenicali, giù in descrizione per un Google Drive, dove uploadare le vostre clip affinché io le possa vedere. Una nota importante è, cercate di uploadarle a una qualità decente, ora in questo caso vi faccio vedere ad esempio, come non dovete metterle. Questa è una clip con la grandezza massima che vedete sullo schermo, a 360p di qualità massima, che come potete vedere si vede un po' piccola, ma giusto un pochino. Quindi una cosa molto importante è, se volete metterle, cercate di arrivare almeno a una qualità di 720, o quantomeno appunto a una grandezza dello schermo decente, che non sia troppo sgranata. Quindi mi raccomando, usate il link, intanto complimenti al mini grab che mi sembra di aver visto sullo schermo, e grazie mille per chi mi mette, insomma che mi manda le plays, alle quali insomma andare a reactare e vedere durante questi video. Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, lasciare un commentino giù, un commentino sulle cose e su chi vi interessa, anche se avete visto di queste novità, vi auguro una buona serata, delle buone rank, ed ci vediamo al prossimo video.